e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio allora l'ultima volta ci siamo lasciati con la guerra contro gli austriaci dove gli abbiamo rubato l'ungheria si è ribellata anche la serbia questo non l'avevo notato questo non l'avevo notato ragazzi quindi ora cominciamo questa guerra a due fronti una guerra molto difficile quindi cerchiamo di attaccare subito è morto è morto un nostro generale e vabbè lunga vita nuovo generale ok io stability no meglio questa 6 6 meglio questa tanto stability 1 non ci siamo poi questa qui ci dà sempre più forse limit navale possiamo cercare ora di costruire una flotta commerciale dopo con la militare o forse ci serve una flotta ancora più grossa per quanto riguarda la flotta militare infatti fare un po di galea in giro non si sa mai dovessimo andare tipo contro una delle fazioni iberiche è meglio trovarsi pronti ragazzi e vediamo provo a attaccare anche firenze l'ultima volta che siamo visti e ok realtà dei burger punti diplomatici allora forse è meglio fare questa missione ora così abbiamo i nostri punti diplomatici forse abbiamo anche abbastanza punti per devare l'istituzione questo ci serve pier 3 pier 3 però mi piace questo non so se sincero non so cosa dà quella forma di governo specifica lì a questo qui dovete avere splendore però per ora c'è francamente non attiverei queste missioni finché c'ho questo qui forse però possiamo mandare l'arsenale a livello 2 questo sì andiamo all'arsenale a livello 2 perché c'è ancora lo sconto forse allora devo vedere una cosa quanto ci costa ci costa ci costa tipo 500 ducati in meno questa qui ci costa tipo 1000 ducati in meno forse è meglio aumentare il palazzo del doge quanto dura questo sconto qua modificatore della provincia sarà da qualche parte qua sopra non riesco a vedere sono diventato cieco dov'è quello che è veniva anche con l'advisor con la missione possiamo aspettare possiamo vendere le terre aumentare quello del doge sì assolutamente aumentiamo quello del doge che è meglio poi vediamo un secondo non c'è prosperity però c'è Padova possiamo migliorare Padova c'è anche la carta quindi cerchiamo di devare qui l'istituzione non vorrei usare troppi punti diplomatici perché ci siamo qui ragazzi ok abbiamo fatto spawnare anche il colonialismo qua a Padova e intanto abbiamo recuperato le crown land per il dev intanto cominciamo a vedere se possiamo forse possiamo chiamare Napoli prima di ucciderlo intanto i territori me li prendo io se chiamo Napoli in questa guerra Napoli prenderà meno aggressive cioè io prenderò meno aggressive nei confronti di Napoli quindi quando romperete l'alleanza in futuro avrete meno chance di avere una coalizione ok questi qui non sono stati che possono farmi coalizione c'è il Papa c'è l'Austria l'Austria c'è una trussa anche gli ottomani ma merucchi quindi dobbiamo cercare di tenerli sempre in guerra contro di noi finché non ci facciano una coalizione intanto abbiamo per ora abbiamo ancora la Polonia alleata infatti cercherei di migliorare un po' le relazioni in giro con i nostri alleati o la trusse possiamo aumentare tipo la trusco ai francesi infatti aumentiamo tipo i nostri favori per trust trusto per la fiducia che hanno nei nostri confronti e poi niente andiamo a per 5 per queste guerre perché sono noiose no forse è meglio non prenderli perché sennò se no poi cominciano a reclutare cose a caso allora questa guerra contro Savoia è molto utile perché Savoia c'ha degli alleati che non capisco come fa cioè c'ha la Castiglia e la Francia evitiamo per favore evitiamo allora ok qui possiamo fare quella missione che ci dà ah ah cavolo questa è forte è inutile eh in questo momento perché noi ormai abbiamo tutte quasi tutti bonus dell'era quindi boh forse per la prossima sarà veramente utile cioè finché teniamo l'advisor livello 5 ci dà due punti di splendore se non sbaglio gli obiettivi te ne danno tipo due quindi soltanto un advisor come se avessi tipo due obiettivi e mezzo più o meno eh ok mmm è morto il doge il doge allora noi abbiamo 90 di Republican Tradition questo ha 59 anni e lui è anche un amministratore che c'ha 6 in admin a me serve un sacco l'admin perché devo finire anche le idee religiose quindi diciamo che l'ho aumentata anche un po' da tutte le parti oh mio dio eh di cavolo di ribelli qui dobbiamo trovare un metodo per alzare anche i ribelli a Cairo vabbè ma tanto al Cairo dove possiamo mettere la flotta qua non ci serve a Ragusa forse sì anche a Ragusa tanto a breve non servirà più la flotta devo attaccare anche Genova però Genova è Caracoi cavolo ok non so per quale motivo Caracoi lo è garantito a Genova ancora perché se non mi ricordo male era garantito anche questo qua ci conviene aspettare un po' perché si espande abbastanza in fretta l'istituzione non cerchiamo di tanto non dobbiamo teccare a parte admin e diplo non dobbiamo fare grandi tech penso che non teccherò nemmeno admin e diplo forse a Costantinopoli ci serve un forte ok stacco e pare è sempre utile per una questione di army tradition però ora francamente non ci serve più leviamo le alleanze che ha questa nazione qui leviamo Castiglia non leviamo tutte perché sennò si rialleano Castiglia Francia poi prendiamo Max Money posso prenderlo come vassallo non evitiamo di Firenze c'è eh nah evitiamo non è worth it allora Firenze ho feeders quindi questi li salutiamo che vuole sta buono poi possiamo entrare ancora in reform for progress no mi sa che no mi sa che per ora i punti admin ci servono ci servono e come eh ok no è morto quello è morto il nostro advisor scontato mortacci sua ok questi non so come cavolo fanno ogni volta dalle arsi della Francia Francia è un mistero un mistero che devo risolvere allora chi è che mi entra in coalizione con questo mi entra Ulm Svizzera altri staterelli del cavolo ok nessuno di pericoloso quindi anche la Serbia di salute oh ok ora ragazzi possiamo diventare impero oh che bello siamo la grandissima repubblica di Venezia ora accettiamo anche tutte le culture italiane quindi ci siamo liberati anche dei slot possiamo accettare o i siriani i bulgari e i serbi io allora i siriani sono un bel gruppo anche i turchi però allevare queste trade company non lo so no accettiamo i serbi tanto queste cercherò di eh statare anche tutta la Serbia per ora si insieme ai bulgari i bulgari le dobbiamo subito accettare abbiamo accettato anche i greci infatti prendiamo anche i bulgari e forse i serbi non ancora aspettiamo di attaccare appena abbiamo attaccato cerchiamo di aspettare anche con loro mettiamo le relazioni con l'ingheria allora la cosa buona mamma mia ma vabbè ma sono durazzo a mid e chi se ne frega mettiamo tutta la flotta insieme tra i ne quella commerciale l'ugna annulliamo la nostra missione e poi rimettiamo loro subito a fare quello che stavano no brents ci odia che peccato ce ne faremo una ragione brents poi ah ok questo ci fa perdere diciamo l'autorità del consiglio che tanto è già a 0 è a 7 più o meno perché aumenta in base cioè se sei in guerra questo valore non aumenta tanto anche se hai il doge più scarso se ce l'hai bravo aumenta questo ci fa perdere potere consiglio fa togliere anche delle terre ai burger e anche al clero ci dà anche 500 punti diplomatici dietro che ci servono per te per teccare ok ora basta espansioni porca miseria questo non è per niente buono possiamo fare le barracks al road vorrei proprio cercare di evitare altra stability perché ci servono punti tanto il doge ha 60 anni speriamo che non muoia se no siamo un po' sfortunati ok bene possiamo prenderci altre terre sì sì prendiamoci altre terre tanto Firenze scomparsa Napoli sta facendo cose per ora Napoli non la levo come leata perché mi serve mi serve Napoli non prenda aggressive expansion nei miei confronti e poi cerchiamo ancora di cerchiamo di finire i core ragazzi i mamelucchi sono stati attaccati o hanno difeso qualcuno perché c'è la castiglia nel qui mi chiamano ok o mandiamo gli mercenari ai nostri amici polacchi amici per ora oh questo è interessante eh se vogliamo rubare un giorno dei territori questo è molto interessante però il problema è che questi qua sono allenati anche con Napoli sì però è vero se io attacco loro non entrano tanto entrano anche con Reconquest dovrei cercare di migliorare le relazioni per annettermi Lucca perché Lucca è abbastanza inutile Lucca è veramente inutile questo no perché ne vorrei evitare di sprecarlo ok se teniamo questa missione quando Costantinopoli è sotto il nostro dominio cambia anche cultura diventa veneziana il problema nel farlo semplicemente è che noi dovremmo cambiare religione quindi non è conveniente ci aspettiamo che diventiamo protestanti tanto l'istituzione è passata in un bel po' di province non ci costa nemmeno tanto possiamo prendere la tech migliorare anche le nostre navi cerchiamo di mandarle tutte a Venezia perché a Venezia c'è shipyard mandiamo tutto a Venezia poi dobbiamo techare anche admin così abbiamo il bonus della produzione qui tanto abbiamo soltanto due navi pesanti poi il resto fatto da navi da guerra di piccolo taglio ok prendiamo un po' di Ducati no non voglio perdere potere non voglio assolutamente perdere potere e possiamo anche techare ora quello che faremo è stare buoni per un po' cioè buoni per modo di dire perché faremo delle guerre ma non direttamente a noi per conquistare qualcosa infatti qui avevo intenzione di rilasciare un altro vassallo che è o è eretna perché tipo qua abbiamo una provincia di eretna e possiamo cercare di dargli tutte queste province qua oppure candare ma mi sa che faremo per eretna l'altra soluzione sarebbe rilasciare la transilvania no è morto no è morto l'advisor e questo non posso farlo perché ah devo avere anche una ok ok che sfiga eh questa è stata veramente una sfortuna amorosa peccato abbiamo anche lui non costa niente cioè intanto facciamo 18 punti questo è un il problema di venezia è che il suo tag speciale lo può formare soltanto dopo tag 18 perché è a tag 18 che noi sblocchiamo no tag 17 scusate è a tag 17 che noi sblocchiamo le università perché questo ci richiede 500 di dev della nostra nazione con le università e anche qui richiedono università questo richiede diplomatici però non non è importante cioè possiamo farlo questo l'abbiamo già fatto il problema per formare il tag speciale di venezia ci servono tutti quanto questi qui tutti questi mission tree ci servono e se no non possiamo fare la repubblica d'oro e questo è un peccato l'altra cosa che ci serve è prendere queste province qua così ci da dei bonus permanenti fino a fine partita per quanto riguarda trade steering e l'investimento sulle trade company e anche l'upgrade dei center of trade allora poi l'importante è cercare di prendere tutta questa zona qui perché perché se prendete tipo tutta la lombardia e una parte l'emilia romagna e la toscana voi riceverete gli eventi per quanto riguarda queste nazioni qui e prenderete anche dei permanent claim su tutta l'italia ora noi ci manca siena ci manca tipo pisa luca è nostra milano è nostra queste a breve saranno di milano la cosa che possiamo fare quando ci entrerà in guerra anche napoli ragazzi sarà rilasciare siena oppure non lo so allearci pisa e dagli però conviene come l'ho detto pisa non è fattibile quindi dobbiamo liberare anche pisa e rilasciare anche siena così possiamo evitare di andare in guerra contro napoli prenderci tutti questi territori e prendere i permanent claim su tutta l'italia molto bene possiamo togliere anche la pausa bene o male era per spiegare quello che volevo fare però noi non ci abbiamo più rivali uno di questi rivali sarà la castiglia perché mi stanno antipatici cerchiamo di utilizzare questi mercanti che non utilizziamo cioè tanto per il resto non possiamo stirare da nessun'altra parte e possiamo mettere anche un mercante per quanto riguarda Venezia cerchiamo di mettere ok abbiamo finito dei nostri core tanto qua possiamo statare la Toscana questa cosa è buona e tanto ok è spawnato il protestantesimo quindi non possiamo dove è spawnato? ok è spawnato qua al nord è spawnato soltanto in una provincia molto bene allora finalmente possiamo dire innanzitutto facciamo questo perché ci dà anche prestigio ci dà prestigio ci diminuisce le relazioni con tutti no allora no no perché ho questi maledetti che devo annettere no però diventiamo protestanti quindi papa le tue scomuniche te le puoi tenere per te prendiamo anche l'advisor qua prima possibile perché abbiamo perché abbiamo tre missionari? cos'è Gerusalemme ci dà un missionario in più? non mi ricordo strano molto strano non c'ho nemmeno Roma non capisco da dove viene quel missionario no Napoli ci ha rotto l'aleanza che peccato mi dispiace mi dispiace mi dispiace intanto andremo in guerra con Napoli a breve quindi potremo cercare altre di est e basta con queste ribellioni scaduta la trus con queste nazioni qui intanto essendo reconquest non voglio prendere altri territori oltre che rilasciali punti militari gratis ok Napoli quanti uomini ha 27.000 ok cerchiamo di fare reconquest qua Memmingen sul serio uh eh ma velocizziamole sì tanto abbiamo un sacco di punti favore con queste nazioni cerchiamo di velocizzare al massimo vabbè ma sì ma si mettono in coalizione perché sono in guerra ma per favore va ah un'altra cosa che possiamo fare visto che abbiamo un sacco di income è prendere questa compagnia qui la grand company e poi fare un altro stack per assediare oppure prendiamo altri mercenari tipo questi sono troppo costosi ma i stratioti che non sono diciamo che sono intelligenti poi che cavolo è andata la mia ecco ok cerchiamo di bloccare e basta ok quindi qui abbiamo cosi dove c'è spawnato no vabbè anche lucca si è convertita al protestantesimo quindi anche lucca ha preso un center of religion quindi oh mio dio forse forse potevo prendere anche le religiose come seconda vabbè ormai ormai le abbiamo prese se c'è qualche decisione strana che ci da decisioni di strength si tasse questo no evitiamo via 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 quello è brutto ma che mi frega ah ok vabbè e miglioriamo qualche relazione per non avere qualche coalizione strana cosi quanto ci costa non ci costa niente perché tanto non è un contesto uh l'atrusco gli ottomani se n'è andata gli ottomani forse è meglio attaccarli subito no forse è meglio di no qui ho fatto un errore ragazzi perché devo rilasciare subito Eretna mi sono scordato di rilasciare ok Genoa è caduta quindi noi possiamo andare verso Napoli il nostro stack di l'assedio tanto qui speriamo che il nostro doge non ci lasci con questa Republican Tradition perché sennò diventiamo una dittatura cos'è questo ok ora possiamo prendere anche questo Costantinopoli ora è Veneziana e Protestante tutto bene qua possiamo prendere anche l'altro missionario ora abbiamo quattro missionari questo è cos'è ah perché la Serbia e la Toscana si si la le statiamo dopo ragazzi per il momento no no perdiamo soltanto questa Armi Tradition e basta questi qui cominciamo già a spostarli verso il confino con gli ottomani tanto io ho 6 su 6 quindi posso ok gli ottomani mi sono entrati in coalizione ma non è un problema Venezia no allora perché mai di fare una cosa veloce vogliamo di fare una cosa molto veloce vogliamo di mettere il nostro doge come speriamo che ok Cairo non è caduto ok Cairo non è caduto è caduto il forte qua a nord quindi noi ora possiamo andare a Napoli senza problemi non riesco a capire dove stanno andando i genovesi vediamo vediamo molto molto bene questa questa deve andare a Milano no il porto di Napoli è qua sotto ah ma perché c'è entrata la Moscovia in guerra come cavolo ho fatto ad entrare la Moscovia in questa guerra stabilità ma non è la Lituania ok questa mappa mi confonde cioè questa mod mi confonde sempre sia lo dato sì molto bene veramente non rischiamo la dittatura almeno una buona notizia eh aspetta cosa basta beh perché che cavolo ah ma perché siamo in combattimento con Napoli e li ha finché sei in combattimento non ti dà mai la pace cioè te la dà però di solito o a medium o low voglia di combattere ora cerchiamo infatti abbiamo risolto Napoli non abbiamo mi so scordato di levargli l'alleanza con la Borgogna ma chi se ne frega allora qua invece chi ci entra in coalizione chi se ne frega però questi che cosa li teniamo va teniamo così Milano è completamente nostra e qui possiamo prendere anche la missione che se hai il Grand Capitan ti costano zero noi ci abbiamo l'Army Organizer se non sbaglio vale anche quello sì i nostri rinforzi costano zero però possiamo andare anche per le tattiche di guerra moderna ora gli ottomani non so se rimarranno ancora in coalizione una cosa ora che possiamo fare così non ci scordiamo e rilasciare Eretna e ora c'è un sacco di Reconquest contro gli ottomani dopo questo ragazzi andiamo subito al confine contro gli ottomani e poi cercheremo in futuro di menare gli austriaci di nuovo insieme anche i mamelucchi forse scadano no scadano tutti e due in contemporanea quindi forse è meglio sì va bene lo stesso va bene lo stesso così questa è l'Ungheria tanto forse Moscovia garantisce perché la Moscovia mi vuole rompere le scatole cioè vabbè ragazzi per oggi è tutto ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti ragazzi grazie a tutti